Con la consegna della pesante targa del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio si è ufficialmente insediato a Palazzo Silone, sede della Giunta Regionale. Il passaggio di testimone tra il Presidente vicario uscente Giovanni Lolli e il neopresidente della Regione Marco Marsiglio è stato fatto sottolineando ancora le criticità della Regione. Questa è una Regione che dal punto di vista del proprio apparato industriale, con tutti i limiti, e dal punto di vista della sua struttura agricola, sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda la trasformazione, è a tutti gli effetti una Regione paragonabile a una Regione del centro-nordo. Ma dal punto di vista delle infrastrutture vecchie e nuove, dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista del funzionamento della pubblica amministrazione, è una Regione meridionale. Siamo tutti consapevoli, mi fa piacere che lo siamo in maniera trasversale, che questa Regione potrebbe essere in grado di moltiplicare la propria capacità di produzione, di ricchezza, di posti di lavoro, di benessere per i propri cittadini. Se riuscissimo a risolvere alcune importanti vertenze, che non si risolvono soltanto lavorando duramente qui in Abruzzo, ma anche portando il tema Abruzzo sui tavoli nazionali ed europei, dove le scelte strategiche si fanno e si individuano le risorse necessarie. Io mi metterò al servizio di questo progetto, insieme a me lo farà tutta la coalizione, alla quale chiedo di essere aiutato nel portare avanti questo immane lavoro. E anche alle opposizioni, ovviamente rivolgo l'appello a lavorare nell'interesse della Regione, a lavorare insieme per sfidarci sulla qualità delle proposte, non per bloccare quello che si fa, ma per suggerire, proporre, aiutare, soprattutto nelle cose che ci accomunano e che sentiamo insieme come utili per la nostra Regione. Quindi questo è lo spirito con il quale assumo questo incarico. Spero di avere la forza e di conservare sempre la serenità e la lucidità, nonostante immagino, come già mi è stato detto dal predecessore, la giornata sarà sempre piena di carte, di faldoni e di dossiere che piovono sul tavolo, perché ogni giorno sarà pieno di emergenze. Però cercherò di comporre una squadra che mi aiuterà a filtrare queste emergenze, a dividersi il peso di queste responsabilità e a fare in modo che poi si riesca ad andare avanti, ad assumere le decisioni che servono nell'interesse dei nostri cittadini. Il Presidente Marsiglio ha poi fatto un giro a Palazzo Silone visitando gli uffici e incontrando il personale.